Stiamo aterrando? Stiamo aterrando? Sì, sì, giorni adesso con la crampola Giornino, ho una quattro per un me a crampoli Una quattro per un me a crampoli Una quattro per un me a crampoli No, sei andato per la morte No, sei andato per un me a crampoli Una quattro per un me a crampoli E spiegare che per allo Miriam Un'altra quattro per un me a crampoli Mai, non mi faccio mai Non mi faccio mai Ai tuoi scelto Ai tuoi scelto Allora, non mi faccio mai E ai tuoi scelto E ai tuoi scelto Non mi faccio mai E ai tuoi scelto Anche a ma da al vero. Anche a manchina... Anche a manchina... Un barasch kodzica! Anche a chagatungo, a chagatungo... Ma non ci sia un piero che farò, non ci sia un piero. Ne a che fare un sangue che ho guardato. A me ma che non mi piace, io non mi piace. Ale questo tuo primo volo sta per finire Speriamo che non definitivamente Stiamo per attraverso Tutto bene, benissimo Daniele è serioso Non con la classe della professoressa Mazzella Giornino Non con la classe della professoressa Mazzella Come stai, ti accorsi? Aiuto Quasi Aiuto, guarda vicinissimo Eccoci Eccoci No, eccoci è girato tutta l'Europa è girato grazie signore e signore benvenuti a Roma sono le ore 13 e 26 minuti per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso non verrà spento e a mantenere i telefoni cellulari disattivati fino all'apertura delle porte vi raccomandiamo inoltre di aprire le capegliere con cautela per evitare la caduta di oggetti grazie signore e signore benvenuti a Roma che è ora 26 minuti pass 1 grazie